di simona lorenzetti il gruppo la sera del 21 gennaio ha fatto cadere una bicicletta dalla balaustra dei moli sul pio colpendo un giovane studente di medicina in testa il processo con rito abbreviato contro i tre minori due ragazzi e una ragazza che la sera del 21 gennaio 2023 insieme ad altri due amici lanciò una bicicletta dalla testa colpendo uno studente di medicina in bicicletta mauro glorioso la sentenza le sanzioni che il giudice ha inflitto 9 ai 17 anni anni 4 mesi al 15enne 68 alla ragazza di 16 anni la corte dei minori pertanto accettò la tesi del procuratore emma avezzù che contestò i tre giovani imputati il tentativo di il padre mauro giuseppe glorioso presente al verdetto parla di frase equilibrata spero con questa frase i ragazzi anche quelli delle bande bambini si rendono conto che con la vita non puoi giocare e quando ti sbagli fai dei rischi sul serio mio figlio non tornerà così com'era ma i ragazzi devono capire che le azioni hanno conseguenze una frase tristemente esemplare è il commento dell'avvocato domenico peila che assiste il 15enne ma sicuramente questo è un verdetto che renderà qualcuno a suo agio per l'avvocato michele yaniello che assiste il 17enne la relazione giudiziaria non si finisce lì il ragazzo ha letto una lettera in cui spiega di provare disgusto e vergogna e chiede di avere una seconda possibilità per dimostrare che non è il mostro che è stato descritto in particolare magistrato aveva chiesto 13 di prigione il 17 e 9 per ragazzo di 15 e la ragazza il processo ebbe luogo con rito abbreviato l'episodio risale al 21 gennaio di quest'anno i cinque amici dopo aver trascorso una serata tra i locali della vita notturna di torino hanno raccolto una bici elettrica lanciandola dalla lunga balaustra di cacorna nel campo alla base di mauro glorioso era al mauro glorioso termina con alcuni amici in spiaggia la bicicletta è caduta su di lui colpendolo in testa e nel collo il giovane è ancora ricoverato in ospedale in un lungo centro ospedaliero oltre ai minori che rispondono al tentativo di c'è un ragazzo di 18 anni in prigione mentre un'altra ragazza è sotto arresto domiciliare